26 novembre 1857 Nasce Filippo Turati, avvocato e giornalista, si avvicina al marxismo dopo l'incontro a Napoli con Anna Kulischoff, con la quale stringe un legame ideologico e affettivo. Fra i fondatori nel 1892 del Partito Socialista Italiano, è uno strenguo oppositore del regime fascista. Dopo l'omicidio Matteotti, partecipa alla secessione dell'Aventino e nel 1926, minacciato di morte dalle squadre fasciste, fugge in Francia adoperandosi per la riunificazione del Partito Socialista e denunciando la dittatura di Mussolini. Muore a Parigi nel 1932.